Siamo costituiti parte civile perché i miei si sentono di aver subito un reato e di essere vittime di un reato e ritengono che la sede principale per comprendere e far luce su tutto quello che si è verificato sia proprio quindi il processo e il ricorso alla magistratura. Hanno visto diventare carta straccia le proprie obbligazioni subordinate nel novembre 2015 per effetto del decreto salva banche e con loro anche i risparmi di una vita. Si sono costituiti parte civile nel maxiprocesso per truffa carico di dirigenti, direttori e di impiegati della vecchia banca Etruria che domani entrerà nel vivo con l'audizione dei primi testi della procura, gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza che si è occupata direttamente delle indagini e degli accertamenti su quanto denunciato dai risparmiatori azzerati. Si comincerà a individuare quello che era il perimetro in cui sono state vendute le famose obbligazioni che hanno dato questo stato oggetto di azzeramento. Quindi il processo entra nel vivo. Le accuse vanno dall'istigazione alla truffa, alla truffa aggravata, oltre 20 gli imputati per altrettante parti civili. Cinque dirigenti, infatti, secondo l'accusa, rappresentavano la cabina di regia, ossia coloro che avrebbero incitato i dipendenti della banca a piazzare più bonda subordinati possibili ad un pubblico indistinto. Quindi l'idea è comunque che vi fosse una cabina di regia che avrebbe portato, in un certo senso istigato, comunque promosso questa vendita di prodotti ad alto rischio nei confronti di soggetti che non avevano questi requisiti, quindi con premi o comunque invece penalizzazioni relative a poi al raggiungimento o meno di questi risultati. Ci sono infine i direttori, gli addetti e i titoli, coloro che materialmente fecero acquistare ai risparmiatori quei prodotti come noto poi azzerati.